Mi servono crediti? FIFA15CoinSmile troverete il link e il codice coupon qui in descrizione sono veloci, affidabili ed economici Bentornati ragazzi su JoeyHDSpot e benvenuti in un nuovo video del nuovo pack opening Lo scorso video ha raggiunto e superato i 25 likes e ora dunque sono qui con un nuovo pack opening Questi pacchetti da 50.000 crediti Il stream of the week di questa settimana è quello di Santi Casorla, Feguli, Benasfia, Nangolan Pack opening, dunque se volete vedere un nuovo pack opening, un nuovo super pack opening Un nuovo spacchettamento estremo, spaccate di likes questo video, arriviamo almeno 25 likes per il prossimo pack opening Dunque, quando le cianci e cianciopandiamo e strancapanziamo, passiamo all'apertura del primo pack da 50.000 crediti E vediamo se in questo pack che è stato incartato dalla EA ci darà qualcosa 87 Modric, pensavo fosse un altro bail, sarebbe stato buono un altro bail Beh, però modrici, Sergio Busquets E bene, si inizia bene ragazzi, si inizia bene Un 87, non è niente male È veramente buono, anzi Ottimo direi, si parte col botto, si parte col botto Prossimo E vediamo se come prima Scusate, mamma mia la voce Se come prima ha schippato, 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 schippato buon matta Buon matta Non dirmi che è il migliore Infatti, nuovo Bender Bender Tantantan Maledetto Bender Vai Non mi fermo Vediamo cosa esce da questo pack Di nuovo drogba Oggi In questo pack opening veramente Un casino di doppioni Drogba di nuovo Va Vabbè E basta, basta Dai Andiamo Dai ragazzi Andiamo ragazzi Verso Il super giocatore Verso il super giocatore E dai E tu E dai E tu Non mi fare questi scherzetti Non devi apparire Alberto Moreno Cazzacchi Fernando Niente di che Alla riscossa Di questi pacchetti Questi pacchetti 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 Fabregas Ce lo c'ha Se non sbaglio Boh Chi si ricorda più Solo Fabregas Brutto 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 Vai Andiamo Alla riscossa Alla riscossa Riscossiamoci Dopo l'87 Non è uscito più un cazzo di niente Ma è proprio un cazzo Un cazzo Solo un 85 Un 84 Codini Ma è proprio un cazzo Un cazzo Un cazzo di niente La versi E basta Vente che Si anniscono il suo sorrisino E basta Dai E andiamo E andiamo Dai Tu c'hai C'hai il bel trucchettino Sul pacchetto C'hai il bel trucchettino Dai Rosso 87 Sergio Ramos Un altro 87 Pensò che era Bale Sono fissato con Bale Però Sergio Ramos Cazzo C'è oggi è tutto Madrid Real Madrid Di nuovo Arbeloa Hola Madrid Vai Madrid Però Cazzarola Proprio Un'altra volta Proprio Prima era meno di match Peccato Peccato proprio Va bene Dunque un altro 87 Che dire Veramente ottimo direi E' buono Ne avevo trovato due da 87 Sono tutti e due del Real Madrid Buono Vai Ne abbiamo trovato due da 87 Del Real Madrid Ci vuole il terzo del Real Madrid Da 87 Sapete chi è? E' Gareth Bale E ora uscirà un If Mauri Mauri If Non mi ispira particolarmente Però è Mauri If Non è che mi piace tanto Tantissimo Huntler e Turan Comunque ma If Sembra un If Ed è buono Diciamo è un If Buono Va bene Dai Andiamo ad aprire il prossimo Pacchettino Il pacchettino piccolino piccoletto Col fiocchettino nero E' la confezione La carta regalo rosso 81 Un cazzo di niente Un cazzo di niente Andiamo con il prossimo Ma Chi vuole il terzo giocatore del Real Madrid Da 87 Oppure il super giocatore Del Real Madrid Cristiano Ronaldo E vai Gira questa palla Palla Che non palla Che palla Non c'è un cazzo qua Mattie Eh Basta Johnny di Magnifico Ce l'ha dobbiamo fare Dobbiamo trovare il terzo giocatore Qualsiasi squadra Da 87 Di overall Ci deve essere per forza Il terzo giocatore Da 87 84 Non è il top Il massimo Sì È William Diciamo Dai Vediamo 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 Da Di nuovo E due volte di fila Ti fai trovare Bastardino E Baffancapa Di nuovo barbelò Va Va Demba Va Va Vai Vai cazzo Sto sputando da tutte le parti Vaffanculo Dai Allo sputo vincente A chi vincerà Miglioramente Fai cazzo Raramente Che cazzarolamente Proprio Che cazzarolamente Di nuovo Mattie È un'ossessione È ossessionato Alex Basta Questo Penultimo Mo vediamo Non lo so se si ha Se pot Vabbè Vediamo Se apriamo una 3-2 Forse Questa è una 3-2 Oh Vediamo È 85 Diego Costa Che non è maluccio Non è maluccio È pur sempre Diego Costa E Basta E andiamo così Con quest'altro Pacchetto Alla ricerca Di un Superifo Che potrebbe essere Cazzarol Penatia Oppure di un Super giocatore Che potrebbe essere SANTICASORLA Info L'ho chiamato È arrivato SANTICASORLA In Form SANTICASORLA In Form Ed è il secondo If di questo Pac opening L'ho chiamato È arrivato È vaffanbaccio Vaffanbaccio È arrivato Abbiamo Buffon E basta SANTICASORLA In Form Tu finisci dritto Dritto nel mio Clamp Ultimo pacchetto Apriamo Direi che Questo pacco opening Tutto sommato Non è andato Malissimo Sono stato abbastanza Soddisfatto Di questo pacco opening Dai Vediamo Gira E finisce così Il pacco opening Finisce così Dunque Se ti è piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel Pollice All'insù Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti Arriviamo a 25 likes Per il prossimo Pacco opening Dunque ragazzi Qui di Rispop Vi saluto e vi Grazie Ciao ragazzi